Inizio il giro alla ricerca del fungo porcino. Oggi sono in compagnia di mia sorella ed è scattata la sfida a chi ne trova di più. Non ha nessuna possibilità di vincere. Aspetta, non vale, dobbiamo cominciare insieme. Intanto tu riprendi un po' di energia. Io vado a marcare il primo porcino per me. E sono due, due per me. E' visto? Ma hai dato un po' di energia e adesso la sfida di tutto. Il primo porcino è trovato da mia sorella ed è anche un bel porcino. Per ora non sono preoccupato, è ancora lontana. Il primo porcino è un po' di energia. E questo è il secondo porcino di mia sorella. terzo porcino trovato da mia sorella. Comincio a preoccuparmi. Il più bel porcino ho trovato finora e l'ho trovato io. Il primo porcino è un po' di energia. la sfida di energia. Il primo porcino è un po' di energia. E' questo poi troppo. ho trovato un altro gran bel porcino è talmente bello che potrei contarlo due volte un porcino ho trovato con mia sorella e non molla è un po' andiamo altro porcino trovato da mia sorella, la vedo male e di spazio va col dito c'è la radice stai sradicando? lo so tiralo su è rotto nuova regola fungo rotto non si conta bisogna andare qua? giro terminato non sono mica convinto di aver vinto di aver vinto di aver fatto non